Domenica 23 settembre 2012, alle ore 18, presso il Duomo di Berceto, si è tenuto l'ormai consueto concerto in memoria dell'Avvocato Walter Gaibazzi, di cui si celebra la scomparsa avvenuta il 17 settembre 2003. Il Comune di Berceto, con il sostegno della Fondazione Monte di Parma, ha desiderato in questo modo continuare a ricordare la figura dell'amico Avvocato Walter Gaibazzi, illustro cittadino bercetese, già presidente della Fondazione Monte di Parma dal 1994 al 2003. Nella splendida cornice dell'Uomo di Berceto, domenica 23 settembre 2012, alle ore 18, si è rinnovato un importante appuntamento artistico che ha visto quest'anno esibirsi il violinista Francesco Tagliavini ed il pianista Andrea Dembeck. Francesco Tagliavini, il violinista parmigiano, ha tenuto concerti nei maggiori teatri italiani, in Europa, America del Sud, Stati Uniti, Canada, Russia, Israele, Cina e Giappone. Nel 2009 è risultato vincitore del concorso internazionale bandito dal teatro alla Scala di Milano. Tra le recenti incisioni discografiche figura l'integrale live delle sonate di Ludwig van Beethoven per pianoforte e violino in duo con Bruno Canino, recensita dalla Repubblica come esecuzione di straordinario spessore cameristico per d'utilità e intensità interpretativa e aderenza stilistica al testo. Andrea Dembeck, pianista nato a Reggio Emilia e stato vincitore di numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Svolge un'attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in svariate città italiane ed estere, Germania, Portogallo, Svizzera, Cina e Giappone e a suonare per importanti associazioni musicali. In seguito all'affermazione nel concorso nazionale a cattedra ha intrapreso l'attività didattica, attualmente docente di pianoforte principale presso il Conservatorio a Rigoboito di Parma. Il programma della serata, particolarmente ricco e affascinante, ha previsto l'esecuzione della sonata numero 7 di Ludwig van Beethoven e delle sonate di Claude Debussy e Maurice Ravelle. Il concerto è stato preceduto alle ore 17.30 da una santa messa in suffraggio dell'avvocato Walter Gaibazzi celebrata dal sacerdote Don Giorgio Laurenti. Alla serata hanno presenziato tra gli altri il sindaco di Berceto Luigi Lucchi ed il presidente della Fondazione Monte di Parma Roberto del Signore. Grazie a tutti.